Cate e William, sono stati avvistati di recente, senza figli, al Basios Bar dell'Isola di Mustique per la serata Splash of Gold, con Mick Jagger, e sua figlia Jade. I ducchi infatti si troverebbero in vacanza sull'isola caraibica di Mustique. Pare che il principe William e Kate Middleton si siano finalmente presi una pausa, e siano concessi un po' di relax, fuori dagli impegni reali. I ducchi infatti si siano divertiti molto e hanno mostrato complicità. La duchessa di Cambridge e il consorte, sono divenuti da soli cinque mesi genitori per la terza volta, e se a questo si aggiunge la responsabilità enorme imposta dal ruolo da loro rivestito, pare normale che come ogni essere umano, abbiano potuto attraversare momenti di stress. Questo di certo, non può essere per forza sinonimo di separazione. A Mustique, i due reali erano giunti per la prima volta nel 2008, e da allora sono sempre tornati, perché, in questa isola hanno sempre trovato molta discrezione, e la possibilità forse di poter ritrovare se stessi dopo i momenti di crisi. . . . .